Buonasera a tutti, benvenuti al workshop webinar del progetto DSI4U. Oggi siamo arrivati al nono webinar della serie del Learning Journey. Faccio una piccola introduzione. Oggi sono qui con Serena Cangiano che è tra gli ospiti insieme a me. Io sono Zoe Romano e con noi oggi c'è Giulia Tomasello che a breve passerò la parola per illustrarci un po' il tema del webinar, ossia biohacking. Prima però volevo un attimo condividere il mio schermo per mostrare il tema dell'innovazione sociale digitale, che cosa significa, che cos'è e come mai siamo qui oggi. Allora, share e full screen. Allora, da circa, da poco più di un anno, insieme a Serena Cangiano, WeMake, all'interno di WeMake e insieme ad altri partner europei, stiamo portando avanti il progetto DSI4U, quindi Digital Social Innovation per l'Europa. I partner sono di vari paesi europei e ognuno dei partner ha un tema specifico di cui occuparsi per cercare di capire come l'innovazione sociale digitale stia, diciamo, facendo i propri passi all'interno di un contesto di innovazione che cerca di guardare ai temi digitali, agli strumenti digitali, come strumenti che possono facilitare il fatto di creare, avere più impatto, scalare progetti che nascono dal basso, che nascono usando varie... che nascono avendo in mente dei bisogni, che parlano con i cittadini, che cercano di supportare, utilizzando la tecnologia, la ricerca di soluzioni che possono migliorare la vita di tutti noi. In Europa, diciamo, è attivo questo movimento di persone che abbiamo cercato di mappare all'interno del sito digitalsocial.eu, quindi se non avete ancora un vostro progetto o la vostra organizzazione all'interno della mappa, vi consiglio di inserirla, perché quello che cerchiamo di fare è anche di creare situazioni in cui è possibile partecipare a progetti o cercare di collaborare, come stiamo cercando di fare con questo learning journey. Quello di cui ci siamo resi conto in questi anni di ricerca è che molto spesso organizzazioni che magari hanno trovato soluzioni piuttosto specifiche su un tema particolare, hanno necessità di formazione o di collaborazione con altre istituzioni, con altre iniziative che gli permettano di, diciamo, migliorare le modalità di lavoro, ma anche magari trovare soluzioni innovative per raggiungere i propri obiettivi. Per questo abbiamo immaginato, ci siamo immaginati, questo percorso di, diciamo, learning, che però non è top down, quindi non cerchiamo esperti che ci vengono a parlare, ci vengono a insegnare come si fanno le cose, ma abbiamo raccolto gli spunti di questi anni di mappatura per andare a invitare le persone che sono attive in questa community e che ci condividano le proprie sperimentazioni e ci facciano capire la direzione che stanno prendendo i loro progetti, cosa hanno imparato in questo percorso e come possono nascere nuove, diciamo, collaborazioni. Abbiamo sul canale di WeMake, su YouTube, l'archiviazione di tutti i webinar, quindi c'è il link, poi vi condividerò questa presentazione e potete andare a vedervi anche gli altri, gli altri temi che abbiamo trattato. Oggi il tema è il biohacking, quindi avremo, avete visto nell'agenda, un'introduzione fatta da Giulia e poi cerchiamo di andare ad analizzare un case study, quindi un suo progetto specifico e quello che vi chiedo è, mentre parla Giulia, a cui tra poco passerò la parola, potete fare le domande in chat, in basso a destra potete vedere il simbolo della chat, quindi potete scrivere le domande lì, Serena guarderà e monitorerà la chat, se c'è una domanda impellente fermeremo Giulia, però non è impellente, la teniamo per la fine e poi andiamo a vedere se si sommano delle domande, se riusciamo ad avere gli ultimi dieci minuti appunto in cui affrontare alcuni temi. Al termine dell'intervento, quello che ci piacerebbe avere da voi è un feedback rispetto a quello che è stato l'approfondimento di Giulia, quindi quale concetto risoluzione, vi chiediamo appunto di rispondere a tre piccole domande, quindi poi vi condividiamo il link del form e le tre domande sono quale concetto risoluzione condivisa in questo webinar pensi di poter usare nel tuo progetto, nella tua pratica? Quale aspetto del tema biohacking ti è sembrato più utile? Se non hai un progetto tuo, quali sono i progetti di innovazione sociale digitale che pensi potrebbero beneficiare di queste risorse? Ovviamente ci aspettiamo risposte brevi, non dovete necessariamente scrivere un tema, però più riuscite a darci un feedback, più riusciamo anche a capire come continuare questa serie di attività. Quindi oltre a ringraziare i partecipanti per essere assistiti a questo appuntamento, ringrazio Giulia di essere qua con noi e la invito a, diciamo, iniziare pure il suo talk. Grazie di essere qua. Ciao a tutti, grazie Zoe per l'introduzione, e grazie a te Serena per invitarmi. È un onore poter spiegare che cos'è il biohacking o comunque come nella mia disciplina, nell'ambito del design, sono riuscita a integrarlo. Posso condividere già la presentazione così vado avanti tramite quella. Ok, la vedete tutti? Sì, sì. Allora, come vi accennavo, come accennava anche Zoe, sono un'interaction designer e da tanti anni, per tanti anni ho vissuto all'estero e proprio ora mi sono ristabilita per un po' in Italia, prima di una prossima partenza in Asia. E in questi anni tra Milano, Endoven e Londra, diciamo che ho sviluppato diverse tecniche nell'ambito del design, che tra poco vi spiegherò. Ma quando faccio delle lecture, diciamo che mi piace sempre incominciare con questa frase di Simone de Beauvoir, dal suo libro The Second Sex, quindi il secondo sesso, che dice questa sono io, sono una donna e ho un corpo e il mio corpo è una costruzione sociale piuttosto che qualcosa dato in modo naturale. Milano non dà molto senso, ma quello che Simone de Beauvoir vuole dire è che nella società la donna viene compresa in due modi. la donna che è naturalmente, percepita nel modo naturale, che partorisce, che quindi dà vita a un altro essere vivente, e la donna che è costruita in modo quasi strutturato dalla società, quindi quello che la società vuole vedere dalla donna. E questo è un po' su quello che io mi concentro. E queste sono le quattro delle tematiche che parlo, che comunque affronto quotidianamente con i miei progetti, quindi dal biohacking, quindi dall'utilizzare organismi viventi per poter farli crescere, per poter poi sperimentare, creare altri oggetti, e all'wearable computing, e quindi utilizzare tessuti in modo interattivo, quindi magari facendoli muovere, facendoli illuminare, comunque utilizzare i tessuti in modo interattivo con il corpo e l'ambiente. L'ambito della digital fabrication, che sono comunque tutti, anche quei macchinari che puoi usare in makerspaces, come in WeMake, dove c'hai una 3D printing, una laser cutting, un CNC milling. E l'ultimo è Biocouture, che è una disciplina dove si lavora con gli organismi viventi per poi creare degli output a livello più di vestiti o di tessuto, di qualcosa che comunque è indossabile. E questi sono alcuni dei miei progetti con cui, con la quale ho utilizzato queste tecnologie che ho sviluppato durante gli anni. Il primo è Future Flora, del quale anche vi parlerò, ed è questo kit disegnato per le donne per prevenire e curare le infezioni a livello vaginale. e questo kit crea un assorbente fatto con agar-agar e sopra dei batteri che serviranno per ribilanciare la flora persa durante le infezioni. Poi abbiamo RUA, che è un corsetto interattivo ed è stato anche il mio primo approccio alla wearable technology, quindi a questo mondo interattivo indossabile. e questo corsetto aiuta l'utente a respirare correttamente con l'utilizzo della respirazione diaframmatica. La terza immagine, che non si vede molto bene, è una scarpa stampata in 3D, che è stata appunto anche una collaborazione con WeMake che abbiamo presentato alla Maker Faire nel 2014. e questa scarpa, oltre a essere stampata in 3D, ha un circuito al suo interno che cattura la temperatura esterna, quindi se fuori è caldo, questo circuito tramite una cellula di Peltier darà dell'aria fresca dal piede a tutto il corpo, mentre il contrario, se fuori è fresco, darà dell'aria calda. E l'ultimo è un progetto ancora in via di sviluppo, si chiama Bioconductive Skin, ed è più un approccio al... pensando che se appunto nel futuro avremo cose tecnologiche che indosseremo quotidianamente, questi comunque tessuti interattivi sono fatti da metalli, che quando appunto non sono più conduttivi noi buttiamo via e li consideriamo come electronic waste. e quindi il mio pensiero è stato perché no magari facciamo crescere del materiale biologico conduttivo che magari dura anche di meno perché è organico, ma poi quando lo dobbiamo reciclare magari recicliamo la parte conduttiva e biodegradiamo quella organica. Ed è ancora un po' lì perché comunque crescere e lavorare con gli organismi viventi non è una cosa facile, richiede del tempo, richiede molta pratica, e tuttora non ho avuto il tempo di affrontare questo progetto come vorrei, quindi magari potrebbe essere un giorno un PhD, non lo so. E questo del Women Social Taboo è l'ambito sul quale lavoro e sul quale mi occupo, quindi l'ambito al femminile dove non si parlano di certi temi, temi come mestruzioni, quindi dalle pillole contraccettive al parto, al pubertale, a qualsiasi tipo di fase che una donna deve andare nel corso della sua vita e che tuttora è considerato tabù. Quindi noi donne tuttora ci sentiamo in imbarazzo a parlare di mestruzioni anche con le nostre amiche o quotidianamente a passarci anche solo di assorbenti o a parlare di problemi quando si arriva in fase di menopausa, a parlare di problemi quando si è incinta. E questo è un po' stato perché la società ci ha messo in questa bolla dove la donna non ne dovrebbe parlare, dovrebbero essere tutte molto tranquille e pensare che comunque è una cosa che dobbiamo accettare. E questa foto è stata fatta nel 1970 quando alcune donne a Boston si incontravano tipo una volta a settimana per parlare appunto di questi temi, per cercare di comunque dare un'educazione accessibile a tutti e proprio dalle più basiche. Perché appunto già negli anni 70, ma come tuttora adesso, magari i dottori sono uomini, magari non riescono proprio a superare quella barriera per parlare anche a livello emotivo di certe cose e quindi le donne non conoscevano, non sapevano, non volevano parlare. Diciamo che adesso naturalmente è diverso, ma tuttora molte donne si sentono a disagio nel parlare di alcune cose. E queste donne quando si riunivano poi hanno prodotto un libro che si chiama Our Bodies, Ourselves, che in realtà era un magazine che davano proprio a poco per cercare di comunque dare educazione accessibile proprio a più vasto possibile, a più donne possibili, e comunque alla società. E la parte dell'intimate care, quindi delle zone intime al femminile, è quello sul quale per ora mi sto concentrando. Quindi dalle infezioni a livello vaginali, dal monitorare i fluidi vaginali, e comunque tutta quella sfera che per ora è considerata super tabù. Per un attimo introdurvi a comunque il tema del biohacking o di come lavorare con biomateriali, vi ho portato diversi esempi che a me stessa hanno ispirato per poi incominciare a lavorare con il mondo del biodesign. Il primo è un progetto di Sonia Baumel, che anche lei stessa dice Quindi il corpo stesso non finisce dal punto di vista della pelle, ma continua a espandersi verso lo spazio. E lei come designer, lavora anche lei dal punto di vista di microrganismi e di batteri, e proprio cerca sempre di mappare, capire quanto la sua pelle, il suo corpo è fatto di microrganismi. Poi abbiamo Lucy McRae, che si considera una body architect, quindi un architetto del corpo, e anche lei affronta molto spesso questi temi di seconda pelle o comunque di interazione con questo mondo immateriale che potrebbe essere living organism, ma potrebbero essere anche materiali un po' più eterei, e lo fa in modo molto più artistico di performance. Poi abbiamo Shamise Aden, che si è laureata nel stesso corso di Material Future alla St. Martins, e questa scarpa è un prototipo speculativo, che appunto parla di come come le protosellule, protosellulose, potrebbero un giorno creare la scarpa adatta per te stesso. Quindi perché no che un giorno non abbiamo più scarpe fatte di tessuti, ma abbiamo scarpe fatte di microrganismi che si adattano al nostro corpo e che addirittura ci aiutano a correre più veloce, cioè ci aiutano comunque nella nostra quotidianità e in quello che ci serve. Poi abbiamo Faber Futures, che è un progetto di Natsai Cesa, anche lei viene dal mio corso di Material Futures, e quello che lei ha sviluppato è più un modo per ovviare all'inquinamento che quotidianamente facciamo nel colorare i tessuti. Quindi come sappiamo anche il colore nero viene da un processo di tintura che inquina le acque. Quindi quello che lei ha fatto è perché no comunque colorare i tessuti con i batteri, perché ci sono alcuni batteri che producono dei pigmenti che possono variare dal blu al rosso o anche al giallo. E quindi lei cresce nei vetrini, quelli in vetro, fa crescere dei batteri insieme ai tessuti, che quindi una volta che il batterio cresce rilascia questo pigmento e colora direttamente il tessuto. E lei ultimamente è stata al Ginko Laboratory a Boston, dove ha sviluppato, ha cercato di capire come allargare questo, come portare questo processo in larga scala, dove appunto anche l'utilizzo dell'acqua nel comunque colorare questi tessuti e molto di meno, perché anche se siete un po' conoscenza, per crescere un vetrino ci vuole veramente quasi meno di 10 millilitri di acqua. Poi abbiamo Mycotex, che è una collega di me, di Zoe, dell'Etextal Summer Camp, quindi un'altra designer che è nel mondo di questi tessuti elettronici e che da diversi anni si è comunque cimentata nel sperimentare con il mycelium, quindi con le radici dei funghi e che si possono crescere sempre in vetrini e che se poi vengono asciugate comunque si possono utilizzare come se fosse una pelle vegetale e cercare di creare dei pattern per poi creare dei vestiti. Quindi anche lei attraverso ultimamente degli ultimi grant di Wear Sustain o altri fondi sta cercando di produrre questo in larga scala e di capire come appunto possiamo un giorno indossare questi mycelium. Anche qui il consumo di acqua è meno e comunque un prodotto naturale che poi verrà biodegradato. Ma lei invece è un altro prodotto di Susanne Yaskova che anche lei faceva parte del Material Futures non sto facendo sponsoring ma quasi del corso e lei per ora si trova in India e sta sviluppando questa pelle questa pelle vegetale fatta dal dal brewing del 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 cocco del lo scarto del cocco e del hemp e li cresce come come dei layer e poi riesce appunto a utilizzarli come se fosse una pelle vegetale quindi ci fa delle borse ci fa scarpe ci fa vestiti quindi un materiale ancora naturale che per un processo diverso da come noi magari lo lo avremmo reciclato può produrre qualcos'altro poi abbiamo Alginit che è una compagnia americana che ha sviluppato questo tipo filo possiamo chiamarlo biologico che in realtà bio yarn che in realtà è fatto di algi come dicono loro dove può essere appunto anche utilizzato per a maglia e quindi creare una tessitura e al tempo stesso anche questo è biodegradabile diciamo che questo procedimento proprio ultimamente in un camp l'ho provato ed è abbastanza resistente come bio yarn è un po' come rifare la cucina molecolare che quindi lavora su queste come bolle di gelatina che però dentro ancora sono liquidi e quindi anche qui è sempre un processo che magari parti da degli ingredienti che non penseressi mai di utilizzare tipo il calcio sodium o alginate acqua e poi magari crea un altro materiale che puoi indossare Carol Collet invece era un'insegnante nonché la fondatrice di material futures e lei come artista lavora da un punto di vista più dell'ambito del vegetale quindi delle piante e Bio Lace è questo suo progetto dove appunto specula sul fatto che magari un giorno potremmo istruire le piante a produrre dalle radici del pizzo e quindi quando tu appunto fai crescere delle piante come magari una pianta di frago allo stesso tempo fai crescere del pizzo dal punto di vista delle radici e questi progetti che vi ho fatto vedere la maggior parte sono stati ultimamente esibiti in questa esibizione che si chiama Textal Biophilia che ho curato proprio due mesi fa in una galleria a Nottingham è stata pensata perché durante la settimana del festival di scienze e curiosità che di solito avviene a febbraio in tutta Inghilterra e quindi in questo caso a Nottingham mi hanno chiesto di curare un'esibizione e io ho pensato di chiamare diversi artisti ma anche dal punto di vista dell'accademia o compagnie che lavorano su appunto questi temi su come ripensare a livello biologico a livello di microrganismi una una diversa realtà quindi magari qualcosa che può indossare o qualcosa che si può utilizzare anche come accessorio e ora stiamo pensando anche a portarlo in diverse parti d'Europa quindi con un po' di introduzione di alcune reference e alcuni esempi questo è quello che io penso sia il biohacking o comunque quello che io lo come io lo uso nei miei progetti quindi il becoming participant in the culture and knowledge of science quindi diventare partecipi in questa conoscenza della scienza e come prendendoci prendendo in controllo del nostro corpo quindi prendendo conoscenza di quello che noi stiamo utilizzando di come utilizzarlo di celebrare our body microbiome e adesso vi spiegherò che cos'è il microbiome il microbioma se magari non vi è molto chiaro all'inizio e come diventare citizen scientist quindi come io da amateur da persona che voglio incominciare a lavorare con le biotecnologie o con i biomateriali posso poi diventare una partecipare posso essere partecipe di questo mondo quasi come una scienziata e come abbracciare la biotecnologia nella mia quotidianità come magari indossare i batteri nel futuro e appunto poi vi racconterò dei miei progetti e come creare un'educazione a livello open source perché diciamo che il biohacking deriva dalle mie ricerche comunque deriva da questo è più un movimento americano dove si può notare anche adesso ci sono persone che appunto si implantano microchip sotto pelle per utilizzarli come RFID quindi piuttosto che utilizzare magari una scheda per passare nella metropolitana usano la loro mano per fare lo swipe per passare direttamente e quindi il mio cioè vedendo questa comunque innovazione un po' anche punk ho detto ma perché no se un giorno in le nostre case avessimo un incubatore o anche un ambiente più stereo o la conoscenza di come utilizzare i batteri perché no di creare qualcosa che un giorno possiamo indossare per il nostro benessere e per la cura di noi stesse perché open source perché comunque come movimento è nato da il DIY quindi il do it yourself di farselo da soli quindi al tempo stesso anche io ho imparato da sola guardando altri video e comunque imparando in spazi come makerspaces o hacking spaces ed è comunque quello che io credo credo che se appunto nella società ci sono ancora dei tabù perché no creare dell'educazione che appunto sia open source e digitale che può arrivare a più persone possibili utilizzando appunto biotecnologie e innovazione quindi questo è un tipico tipo uno dei miei tipici laboratori o studi in questo caso siamo a Londra al biohacking di Hackney che tuttora adesso non c'è più perché hanno appena spostato in un'altra zona a Londra ed è proprio una stanzina piccolissima nel piano di sotto del hackerspace che è aperto 24 ore su 24 e lì ho imparato un po' a utilizzare macchinari come la centrifuga l'incubatore e a crescere dei batteri quindi quello che cresceva all'inizio erano lactobacilli e poi per delle persone che frequentavano il laboratorio imparavo anche altri materiali e quello che il multidisciplinary environment è proprio il concetto in cui credo cioè appunto il lavorare con diverse persone da diverse discipline perché credo che dal punto di vista del design se il più possibile sarà comunque il più possibile collabori e più in dettaglio puoi andare nei progetti cioè più il progetto diventa più innovativo e anche più sperimentale perché naturalmente è come se abbatti tutti i limiti e quindi quello che a me piace è sempre lavorare con ingegneri fashion designer microbiologi biochemist però quello che mi piace anche è capire da sola come farlo quindi quello che faccio di solito è farmi da sola magari il mio battero imparare da sola piccole cose per poi collaborare e comunque avere già un certo linguaggio con gli scienziati quindi non parlo da una persona da un punto di vista magari più blind più cieco ma in realtà so di cosa sta parlando e quindi posso avere un rapporto più diretto e vi ho lasciato questo esempio un po' adesso che è l'esempio del bioculture di Susan Lee e perché appunto anche io ho lavorato con la kombucha e la kombucha è un yeast o un fungo anche quindi un lievito o un fungo che cresce dalla fermentazione del tè zucchero e aceto ci sono anche diverse ci sono anche altre ricette per poterlo far crescere però questa diciamo che è una delle più basiche e la fashion designer Susan Lee la fashion designer Susan Lee da ormai diversi anni ha incominciato a far crescere questo kombucha non più solo per magari berlo perché molte persone fermentano questa kombucha per berlo e poi purificarsi ma per utilizzare la parte di cellulosa che si crea sopra per crescere in bagni molto molto grandi per poi farla asciugare e utilizzarla come pattern per creare dei vestiti quindi proprio parliamo di dieci anni fa quando si è messo a fare le prime giacche anche a tingerle o a farci diversi screen printing sopra e quello però che si accorta è che appunto con la moisture della nostra pelle la kombucha stessa diventa sempre diventa un po' più tipo si indebolisce e quindi in realtà rischia di rompersi ogni volta perché come materiale non è stato trattato quindi se si lascia se si usa la kombucha nei vestiti proprio come la l'asciughi in realtà non è ancora così avanzata per poterla utilizzare e quindi infatti lei stessa Susan Lee tuttora ha una sua compagnia a New York dove sta ingegnerizzando la sta creando la pelle da un punto di vista più synthetic engineer quindi più da dei genomi crea della pelle vegetale quindi quello che ho fatto era incominciare a crescere la kombucha ho incominciato in camera all'inizio quindi da piccoli bagni a bagni più grossi e questa è la kombucha quando ancora è bagnata e che quindi sembra ha un cattivo odore ma comunque è una cellulosa e la puoi comunque anche diciamo strizzare allargare strecciare e quello che era comunque il mio intento era di crescere una kombucha conduttiva quindi non mi bastava mai crescere una kombucha normale vorrevo capire come crescere una kombucha e farla diventare conduttiva come se fosse un tessuto elettronico ma in questo caso organico quindi cosa facevo iniettavo nella bacinella della coltura iniettavo del grafite rame di tutto di più non che magari consiglio di farlo però era un mio modo per capire se poi questa kombucha potesse crescere conduttiva e diciamo che quando era in una fase appunto liquida quindi quando era nel bagno era conduttiva ma anche perché le particelle elettroniche potevano girare di più e creare questa corrente mentre poi quando l'asciugavo non funzionava proprio e qui si può vedere come da un giorno uno a un giorno trentuno in questo caso la kombucha piano piano cresceva in questo caso è cresciuta molto poco perché magari la temperatura non era quella adatta perché lavorare con gli organismi eventi non è come dicevo prima non è facile non è facile perché devi intanto avere gli ingredienti giusti utilizzare le quantità giuste e poi l'ambiente deve essere quello giusto quindi non troppo caldo non troppo freddo dipende da quello che stai crescendo e poi si deve aspettare quindi non è più magari come una design da un punto di vista di design prendi un pezzo di legno lo tagli lo monti costruisci una sedia purtroppo in questo caso se prepari la kombucha devi aspettare magari tre settimane o un mese un mese e mezzo dipende quanto spessa la vuoi per poi poterla utilizzare magari quando la utilizzi non è non è come si dice magari non è sana e quindi la devi anche uccidere quindi si crea quasi un rapporto di nurturing di quasi madre madre figlia madre figlio con questi materiali e il mio intento con appunto far crescere c'era la kombucha conduttiva era di creare questa seconda pelle conduttiva cioè noi siamo già la nostra pelle è già conduttiva cioè se io riesco a muovere il dito è perché naturalmente ci sono dei neuroni che fanno passare della corrente ma la nostra pelle è talmente resistente che appunto non ci fa dare la scossa quando tocchiamo qualcun altro però pensavo perché no magari che invece creiamo una seconda pelle organica che sia conduttiva e diciamo che poi non sono riuscita malgrado gli esperimenti anche a livello concettuale non ero riuscita a essere soddisfatta su un perché e quindi ai tempi questo era il mio progetto di tesi è stato un po' abbandonato comunque messo da parte e poi da questo però rapporto simbiotico sono passata ad un altro rapporto simbiotico quindi non più di cellulose ma di batteri e perché di batteri perché informandomi leggendo un paper ma anche comunque ripensandoci effettivamente il nostro corpo umano è la nostra la nostra microbiome è la nostra microflora è fatta dal 50% di microorganismi al 50% di cellule umane quindi possiamo dirlo che siamo fatti di microorganismi e lo si può anche pensare quando per esempio prendiamo degli antibiotici e poi il nostro dottore ci dice di prendere dei probiotici per ripristinare la flora che abbiamo nel nostro intestino quelli sono la maggior parte dei batteri che noi abbiamo e che sono presenti nell'intestino che inoltre ci indicano il nostro comportamento quindi quando per esempio anche in italiano abbiamo questo modo di dire no forse più in inglese lo si dice I feel it from the gut che quindi me lo sento da dentro di dirti qualcosa in realtà proprio paper scientifici dicono che è perché il tuo la tua microflora il tuo sistema di batteri che hai è tuo ed è proprio è unico ti dice ti quasi comanda il tuo istinto il tuo comportamento e questi batteri che noi abbiamo e che sono nostri vengono da quando noi siamo nati e quindi da quando proprio siamo nati dalla vagina della nostra madre e quindi da una flora vaginale materna quindi se si ripensa in realtà magari quotidianamente potremo pensare al fatto che siamo fatti di batteri che anche se non li vediamo sono constantemente in interazione con noi anche con il nostro con lo spazio dove quotidianamente stiamo magari il lavoro in bagno e quindi tutte queste abitudini che abbiamo anche di usare il bleaching l'ammoniaca o di pulire tutto per creare il più sterile possibile magari non sempre può aiutare il nostro organismo perché al tempo stesso noi siamo fatti di questi microorganismi che noi uccidiamo quindi il mio pensiero è stato ok se quindi io incomincio a guardare quello che c'è dietro alle creme o anche ai trucchi che magari noi donne utilizziamo tutti i giorni come possiamo indossare questi batteri in modo da sentirci empowered quindi da sentirci più confidenti come donne e quindi quello a destra è parte del del kit di Future Flora e quindi di questo assorbente fatto di batteri e diciamo che il mio percorso appunto di crescere batteri e imparare a capire cosa sono i batteri è iniziato a casa quindi da vera biohacker o da vera pazza non lo so ho incominciato a crescere batteri in casa quindi guardavo video su youtube in questo caso mi mettevo in cucina vicino al fornello accendevo il fuoco e piano piano cercavo di creare un ambiente sterile perché a quanto pare la fiamma comunque il fuoco pulisce l'aria e quindi incominciavo a far crescere batteri batteri che come ho detto prima erano lactobacilli perché nella flora vaginale abbiamo più lactobacilli che sono anche i probiotici presenti nello yogurt e questa questa crescita di batteri mi ha portato quasi a domesticare la biotecnologia quindi in casa non solo ero in camera mia non solo io ero a contatto quotidianamente con questi vetrini con questi batteri ma quasi erano appunto non dei figli ma erano costantemente presenti e ai tempi collaboravo anche con degli esperti dove appunto mi hanno detto guarda tu sei in simbiosi con questi con questi batteri ma sta attento a non fare entrare altre persone perché magari non è detto che altri altri corpi altri esseri umani possono reagire in modo positivo a questi batteri quindi era abbastanza pericolosa la cosa e ne avevo tanti non tutti magari crescevano bene quindi ogni tanto quando io vedevo delle muffo o qualcosa che non andava mandavo una foto al mio esperto mi diceva guarda è rosa non va bene uccidilo e adesso io non lo consiglio a nessuno però io li uccidevo magari buttandoli nel water cosa che non si dovrebbe fare perché appunto si dovrebbe avere un laboratorio però a quei tempi da studente diciamo che era più un approccio punk o biohacker appunto e questo il progetto di Future Floor deriva da tre casi studio che mi hanno proprio quasi spinto poi a fare il mio progetto il primo è una compagnia americana americana che si chiama Abba A-Biome e che tuttora ha questi prodotti in commercio ed è appunto sono appunto dei saponi fatti di batteri cioè saponi che tu ti spruzzi dei batteri in viso e il fondatore è stato quasi per un anno senza mai lavarsi e non è mai stato male quindi lui dice ok se appunto io non mi sono quasi mai lavato questi batteri di dos e non è mai successo niente perché la mia difesa immunitaria a quanto pare erano addirittura forti perché no farci un sapone dove ogni volta piuttosto che uccidere questi batteri magari li rintreghiamo il secondo invece è un tampone con dello yogurt e questo deriva più dal fatto che anche le nostre nonne per esempio soffrivano di infezioni vaginali magari ai tempi non c'erano delle pasticcole creme che prendiamo ora e quindi quello che si faceva ma che si fa tuttora era mettere dello yogurt nelle mutande o dello yogurt nella vagina perché comunque lo yogurt contiene questi lactobacilli o comunque probiotici che in teoria potrebbero aiutare la ricrescita dei batteri buoni che si perdono durante le infezioni ora scientificamente nessuno nessuno l'ho testato o ha scritto che è un medicinale però in realtà non è neanche detto che non è vero e quindi è una di quelle pratiche che quasi si fanno come tradizione nell'ultimo invece questo qua si chiama vaginal seeding ed è una procedura che ultimamente delle donne hanno incominciato a fare quindi quando delle donne incinta non riescono a partorire con il parto naturale ma partoriscono con il cesario siccome con il cesario non si riesce a dare lo stesso gli stessi batteri o comunque la stessa flora che daresti da un parto naturale dopo che il bambino nasce dal cesario prendono uno swab quindi un batuffolo uno swab e lo imbagnano con la loro flora vaginale il loro liquido vaginale lo mettono nel corpo e nella faccia del bambino e come azione come potete capire è abbastanza forte e al tempo stesso i dottori non dicono né che non si può fare né che si debba fare perché comunque nel nella crescita del bambino tramite l'allattamento o altri comportamenti il bambino prende comunque quella flora che gli serve ma al tempo stesso è anche giusto dal punto di vista della donna quello che fa perché comunque razionalmente funziona però è ancora in disputa come procedimento e quindi Future Flora è questo kit dove si si crea questo assorbente è fatto di batteri ed è come indossare dei batteri nelle nostre mutande il kit è composto da una parte con la rosa dove contiene già l'agar agar e quindi la gelatina pronta per incubare sopra i batteri e poi un'altra parte che è questa parte del kit con diversi strumenti quindi due inoculatori una pinzetta una pipetta con dei batteri in forma di polvere e un canaletto dove poter mettere i batteri per poi fare lo swab quindi disegnarli sopra all'assorbente in gelatina e c'è un video nei miei canali quindi se volete vedere come funziona potete cercarlo si chiama Future Flora oppure se vi interessa ancora di più potete guardare un documentario che si chiama Girl Biophilia e che è di 10 minuti ed è stata una collaborazione che ho fatto con un'altra designer dove ci sono alcune donne e anche la mia scienziata dove tutte noi parliamo di cosa è Future Flora e dal punto di vista di queste donne parlano e raccontano di come sarebbe poter utilizzare questo assorbente in casa e come anche loro si sentirebbero anche quotidianamente perché naturalmente anche ora se io dico a voi donne o anche altre persone sareste pronte di mettere batteri nelle vostre mutande magari la prima risposta è un no perché abbiamo una percezione dei batteri molto negativa ma in realtà se appunto ci si spiega si capisce comunque si comincia a ricordarsi che anche noi siamo fatti di batteri allora magari l'apprendimento comunque si ha più un'accettazione verso queste nuove tecnologie e il kit non è mai stato testato quindi è un prodotto che è stato nasce dal mio dal mio master di tesi della Central Sematic quindi Material Futures ma dai tempi fino ad adesso non è ancora stato portato in laboratorio per essere testato utilizzato e il primo motivo è stato perché quando ho fatto il master non ho avuto tempo il secondo motivo è stato ed è perché penso che la nostra società tuttora non è pronta a ricevere questo kit quindi come non sono pronte le nostre case a far crescere dei batteri quindi ad avere un incubatore o comunque ad avere un ambiente sterile per crescere dei batteri in casa anche noi come persone non siamo proprio abbastanza pronte per capire questo come utilizzare queste biotecnologie nel nostro benessere nel nostro quotidianità però diciamo che da due anni e mezzo quindi questo progetto mi sono laureata nel 2016 da lì ad oggi ho cominciato a parlarne e parlarne sempre di più del progetto perché comunque è abbastanza provocatorio e quindi attrae le persone però quello che poi il successo di questo progetto non è in sé il kit ma le conversazioni che si creano quindi le conversazioni che si creano tramite la biologia la tecnologia e comunque questa interazione tra i microrganismi è il rompere certi tabù o comunque parlare di certe educazioni che noi non facciamo mai e quindi da questo da questo comunque successo dal punto di vista più educativo l'anno scorso è arrivato anche questo premio che è un premio che si chiama Star's Prize commissionato dalla Commissione Europea e che è un premio che l'istituzione Ars Elettronica dà da ormai quattro anni o tre anni ed è stato un premio per l'esplorazione artistica quindi è stato premiato Future Flora per comunque la capacità di innovare da un punto di vista tecnologico scientifico e sociale utilizzando le arti quindi utilizzando un progetto che alla fine è artistico perché ancora Future Flora non esiste quindi da lì ma in realtà anche già da prima nasce un altro progetto che si chiama Alma del quale adesso vi parlerò un po' di più e Alma è un progetto su quale sto tuttora lavorando con tre scienziati che sono a Cambridge University of Cambridge in Inghilterra e quindi dal primo James che è un biochimico Tommaso che è un material science engineer quindi un scienziato ingegnere di materiali e poi Michele che è un fisico che ora sta invece laureando in medicina quindi come gruppo siamo abbastanza multidisciplinare tanto che l'anno scorso abbiamo prima preso dei fondi per poter cominciare a lavorare insieme e poi abbiamo preso anche un premio che si chiama il Biomaker Spirit proprio perché il team è talmente multidisciplinare e attivo che si vede nei risultati e Alma è anche un progetto per ora open source quindi potete trovare tutta la documentazione su hster.io e quindi è stato appunto fatto proprio da come rendere dell'educazione open source accessibile a tutti e perché no appunto trattare di nuovo di questi temi più intimi dal punto di vista della donna quindi Alma è un biosensor che si potrà indossare nelle mutande e che monitorerà i fluidi vaginali quindi fluidi che la donna perde quotidianamente e costantemente e sono fluidi che noi stessi dal punto di vista di donna quando ci sentiamo bagnate la prima cosa che facciamo è cambiare le mutande non siamo lì magari ad analizzare che tipo di fluido perdiamo perché siamo più attaccate dal punto di vista emotivo quindi ci sentiamo frustrate tipo indispettite non lo so cambiamo mutande e finisce lì molte donne invece già incominciano a capire dalla consistenza o dal colore del fluido vaginale che perdiamo se sono fertili o no quindi lo usano come metodo contraccettivo io purtroppo non ci ho mai provato non penso di non essere in grado ma quello che noi vorremmo fare è appunto cercare di monitorare questi fluidi vaginali dal punto di vista chimico tramite un biosensore quindi tramite delle tecnologie per poi dare alla donna dei dati e farle capire in che punto magari del ciclo si trova se delle infezioni stanno arrivando quindi proprio per rendere la cosciente del proprio corpo quasi in controllo di quello che sta succedendo in cose che naturalmente non riusciamo a vedere perché sono più da un punto di vista chimico e da un altro punto di vista questi dati li volevamo raccogliere per incentivare gli scienziati a continuare su questa ricerca perché anche io stessa ho trovato questi tre partner maschi comunque è la verità e non è facile da un punto di vista femminile lavorare su questi temi però sono andata da loro facendogli vedere dei paper tanti diversi paper scientifici sottolineando proprio non ci sono abbastanza dati per dire come prevenire infezioni vaginali o come prevenire infezioni batteriche che dal mio punto di vista nel 2019 mi sembra un po' ridicolo che non ci siano degli studi che si portano avanti su questi temi e quindi da designer e da biohacker specializzata nel wearable technology è quello che sto facendo quindi cercare di portare dell'educazione dal punto di vista più femminile attraverso dell'uso delle tecnologie e questo sensore quindi monitora il pH e il lactate che si trova nel nostro fluido vaginale e un dato molto importante che mi ho detto prima è che il 75% delle donne a livello mondiale soffre di infezioni a livello vaginale che è un bel numero cioè il 75% delle donne può contarlo una volta nella vita e dal 6 al 10% di questo 75% può essere recurrent quindi ogni volta che magari il nostro sistema immunitario è debole o dopo antibiotici o durante una gravidanza la donna può andare può avere di nuovo queste infezioni infezioni che possono essere anche tre volte all'anno e che sono molto frustranti e portano a diversi livelli quasi di depressione per una donna che ne soffre così tanto e quindi ora non mi trovo più magari in casa a fare dei batteri ma sono in un laboratorio sono al laboratorio dell'University of Cambridge di Karnarayan Lab e stiamo progettando questi sensori quindi per ora abbiamo costruito il sensore di pH con un reference electro per testarlo e funziona quindi se andate anche sulla pagina di Alma in hster.io potete vedere un video dove fa vedere come funziona il pH e quello che stiamo facendo adesso è portare avanti il progetto da un punto di vista di un prodotto quindi capire come potrebbe essere integrato questo sensore nelle mutande quindi magari nella parte centrale della mutanda e come avere il circuito poi magari nell'elastico delle mutande e al tempo stesso stiamo progettando un questionario che verrà lanciato adesso siamo a fine aprile spero che verrà lanciato per fine maggio e questo questionario si chiama Alma meets Flora quindi Alma incontra flora che sembra quasi come se due amiche si incontrassero e in realtà è Alma il sensore che incontra la flora che flora la flora vaginale e in questo questionario per ora dedicato a persone con fluidi vaginali chiediamo di cercare di aiutarci su questo progetto quindi vorremmo capire magari se guardate nelle mutande o se durante quante volte cambiamo mutande durante il giorno appunto proprio l'approccio che abbiamo con questi fluidi vaginali e anche se saremo pronti ad indossare questo sensore nelle nostre mutande quotidianamente quindi ci servirà per validare il progetto per magari aggiungere delle nuove feature magari molte donne preferiscono averlo nelle mutande altre donne magari in un assorbente o in un tampone quindi cercare di capire quale potrebbe essere la forma migliore di indossare il sensore e di creare una community quindi una comunità di persone che vogliono vogliono proprio educarsi e vogliono saperne di più vogliono incominciare a capire come funziona il loro corpo come poterne parlare e diciamo che per ora lo lancieremo appunto per persone che hanno fluidi vaginali per poi aprirlo alla società quindi anche da un punto di vista più dell'uomo come l'uomo si relaziona a infezioni vaginali più femminile che magari non gli interessano però perché appunto si può incominciare da noi noi come donne magari noi come persone con fluidi vaginali ma bisogna bisogna andare poi anche nella società per cambiare quindi anche a tutti per poi cambiare il pensiero e come designer lavoro diciamo che porto anche questi workshop di biohacking in un ambito un po' più di campo questo si chiama il Textile Summer Camp al quale ogni anno io, Zoe e anche altri practitioner quindi designer o artisti che lavorano nel mondo dei tessuti interattivi ci riuniamo e particolarmente questo è in Francia al Ponce-et-le-Loire quindi quasi a due ore a sud di Parigi dove ci incontriamo ogni estate per dieci giorni per proprio sperimentare tutto insieme con tessuti elettronici ma ultimamente anche con biomateriali materiali biologici e appunto questo è uno dei workshop che ho fatto con tra di noi dove insegnavo o comunque spiegavo come utilizzare la kombucha e poi tra di noi dipende da chi magari è più specializzato in knitting o tessitura o printing utilizziamo il materiale in modo diverso quindi capire come da diversi punti di vista diverse specializzazioni si può creare qualcosa di più magari specifico più complesso quindi per concludere credo che la tecnologia si sta avvicinando sempre di più la nostra pelle al nostro corpo ci sono già esempi di persone che magari ce li hanno anche impiantati nel loro corpo e diciamo che questa è una delle mie proposte quindi progetti che magari possono aiutare le donne a combattere questi tabù e a diventare più confidente del loro corpo e vediamo come anche appunto queste nuove biotecnologie open source possono aiutare un po' tutti a sviluppare diversi progetti grazie grazie Giulia molto interessante questa overview del tema adesso se ci sono domande io ne ho già subito una altrimenti posso rompere il ghiaccio altri se vogliono possono anche alzare la mano nella chat oppure scrivere e parlare direttamente una domanda era rispetto all'ultimo un progetto e quindi Alma che diciamo è quello che più di tutte le altre sperimentazioni potrebbe diventare una sorta di prodotto qualcosa di acquistabile perché parlavi appunto di inserire la tecnologia già nelle mutande un elastico delle mutande trasformarla in un wearable noi nei nostri summer camp e anche in varie situazioni parliamo anche della sostenibilità della tecnologia se questa si diffonde in prodotti che diciamo hanno un ciclo di vita abbastanza basso come potrebbe essere una mutanda che comunque dura un tot non tantissimo insomma dipende poi anche dalla qualità della mutanda e mi chiedevo visto che a me capita che appunto togli le mutande la sera e le potresti invece mettere in un contenitore o appoggiare la parte utilizzata su un sensore quindi avere un qualche cosa che è da casa e non portarsi la tecnologia addosso quindi mi chiedevo come mai era stata fatta questa scelta anche perché comunque il corpo è abbastanza mobile hai vestiti attillati larghi insomma ci sono è molto potrebbe essere rischioso dal punto di vista della raccolta del dato il fatto di indossarlo invece il fatto stesso che puoi avere un oggetto in casa in cui o in bagno in cui appoggi la mutanda e la mattina dopo ti viene fuori il risultato di quello che è stato no? e comunque mi chiedo se ci avevate già spensato oppure come mai la scelta di metterlo direttamente sul farlo direttamente indossabile come idea diciamo che è molto carina infatti uno di questi motivi abbiamo fatto il questionario per proprio avere più idee cercare di capire da un punto di vista proprio sociale o normale come poterlo utilizzare diciamo che dal punto di vista più tecnico quando noi arriviamo a casa e magari mettiamo via le mutande magari molto spesso il fluido è già asciutto quindi come già esistono dei sensori del pH che si usano nella pelle ed è quello che noi infatti stiamo cercando di capire in modo tecnologico è cercare di incanalare il fluido direttamente nel sensore perché bisogna prenderlo quando ancora è liquido ora anche lì infatti stiamo cercando di capire come prenderlo il più possibile magari nella parte centrale proprio per incanalarlo nel sensore perché quando per esempio si usano quelli per pelle i tatuaggi comunque dei tatuaggi che ci sono già per pelle viene fatto il capillare stesso che produce il sudore quasi spinge riesce a spingere abbastanza per far andare il sudore nel sensore ma qui parliamo di gravità perché invece noi siamo costantemente in piedi o seduti quindi e quello è quello che stiamo cercando per ora di capire come dal momento stesso che ti esco che perdiamo il fluido come raccoglierlo esattamente per poterlo poi analizzare col sensore e anche lì quotidianamente perché magari può cambiare oppure non sappiamo ancora quanto tempo ci vuole per il sensore per leggere per poi mandarlo per poi magari visualizzarlo direttamente nella app perché i sensori che ci sono per ora anche quelli del pH del sudore vanno tramite colore quindi poi il colore cambia come spesso si fa nei test del pH con i fogliettini con il telefono puoi scanalizzare il colore capire che pH hai mentre quello che noi vorremmo cercare di fare è di avere un biosensore che sia riutilizzabile quindi che non cambia solo il colore che poi sarebbe difficile ritornare a un colore neutro ma avere qualcosa più invisibile che noi magari possiamo anche lavare o togliere per poi lavare lavare le mutande stesse ma che allo stesso tempo quotidianamente tu riesci a capire nel tuo telefono con quale pH o con quale stato comunque il tuo fluido vaginale è però sono ancora un po' sosposizioni perché siamo appunto quasi all'inizio di testare queste tecnologie è arrivata un'altra domanda allora ciao a tutti Tommaso chiedeva a che punto fosse l'applicazione del biohacking in ambito energetico se ci fosse insomma dei risultati concreti dal punto di vista energetico di produzione di energia attraverso esseri viventi in che senso sì mi puoi ridire? vedi la domanda lì nella chat se apri sotto mi sapete in passo ok no scusa non lo so fare fai una cosa togli lo sharing della presentazione ci sono bene quindi dice a che punto fosse l'applicazione del biohacking in ambito energetico se ci fossero insomma dei risultati concreti e io poi ho chiesto biohacking ambito energetico nel senso di produrre energia dagli esseri viventi e mi ha detto sì ne sai qualcosa? allora io ne so dal punto di vista più legato la wearable technology quindi per esempio il mio collega Tommaso che è un material science engineer lui stesso lavora attraverso la tribal electricity quindi attraverso il movimento del nostro corpo per creare energia quindi sta cercando di dal punto di vista più scientifico di creare degli strati di carbonio sottilissimi che tramite il movimento del nostro corpo possono creare energia per poi alimentare sensori o comunque circuiti indossabili tuttora che appunto io so tramite lui non ce ne sono quindi lui nel suo PhD nel suo secondo anno di PhD sta cercando di sviluppare questo non so se ho risposto alla domanda spero di sì di altre cose per ora non ne so sinceramente perché effettivamente soprattutto nella wearable technology che è nell'ambito di come io uso anche le biotecnologie il problema della batteria è uno dei problemi sul quale ancora non abbiamo dei tessuti indossabili che possiamo mettere tessuti interattivi indossabili che possiamo mettere quotidianamente perché la washability batteria sono ancora problemi che purtroppo non si è investito abbastanza per poterli risolvere nonostante la wearable technology c'è da vent'anni se non di più prego se ci sono altre domande se no ne faccio una io ci hai raccontato un po' il percorso dal fare le provette nella camera da studentessa con rischio creazione virus di distruzione di massa fino al laboratorio adesso di ricerca se hai o puoi riassumere le lezioni che hai imparato nella relazione con gli esperti cioè durante questo percorso come hai risolto il fatto di chiedere informazioni alle persone che ne sapevano di più a parte frequentando anche Hackerspace e Makerspace come hai imparato a interagire con magari persone che spesso anche se non sono scienziati possono essere difficili perché troppo magari nerd nel loro chiusi nel loro mondo come sei riuscita a passare queste barriere di accesso alla conoscenza interagendo con gli esperti come te la sei cavata che tattiche hai utilizzato per riuscire a raggiungere gli obiettivi a parte esserci che cosa hai imparato che ci puoi condividere un'ottima domanda diciamo che l'approccio che ho di DIY quindi do it yourself di cominciare da sola a capire come crescere le cose o come fare le cose penso sia il mio trampolino comunque quello che poi mi porta anche a leggere paper a informarmi a quindi andare a conferenze ma soprattutto leggere paper scientifici che non è semplice è quello che poi mi porta ad avere un linguaggio più scientifico quando parlo con gli esperti quindi quello che spesso molte persone sbagliano è che mi dicono ah ma naturalmente tu da scienziata le stai se cose e io non sono scienziata come tu subito rimane avanti io sono una designer e da designer appunto so benissimo che magari però posso essere brava a speculare quindi utilizzare le tecnologie e la scienza che si sa oggi per poi magari ma anche quelle che potrebbero esserci in un futuro speculare e creare delle cose non è sempre stato facile parlare con esperti e soprattutto per Future Flora ho cominciato a fare batteri negli ultimi tre mesi prima della laurea quindi perché prima facevo quel progetto con la combusta conduttiva da settembre a marzo marzo il mio mentore mi ha detto guarda o cambi o cambi ho cambiato i boccio ero già venuta da un'altra bocciatura diciamo quindi ho detto vabbè proviamo un progetto diverso però avevo solo tre mesi per fare un nuovo progetto e laurearmi e non è stato facile né approcciarmi da sola ai batteri e né trovare degli esperti però diciamo che costantemente facevo parte di workshop di biodesign dove scienziati e artisti si incontravano per parlare e quindi e per anche sperimentare anche solo pensare a nuovi progetti e poi quello che da lì molti mi hanno suggerito di ogni volta interagire con esperti ogni volta dal punto di vista anche quasi opposto quindi in Future Flora parlavo con persone che avevo un esperto specializzato in funghi e un esperto specializzato in antibiotici cioè ogni volta cercavo sempre di avere quasi il commento opposto per capire dove io poi potevo sedermi con il mio progetto però è più serve cioè serve farsi una conoscenza propria che al tempo stesso è anche la filosofia del DIY biohacking o del DIY in sé e al tempo stesso se tu come persona appunto fai del DIY quello che poi ci si aspetta è che produci poi dell'open source quindi è quasi un ciclo nel quale mi piace esserci perché senza non sarei riuscita neanche a fare i miei progetti e che quindi spero anche magari in un futuro che avrò una compagnia qualcosa si spera di poter produrre questa education open source che soprattutto abbatte i batteri dal punto di vista più tecnologico scientifico che tutti possiamo utilizzare ok grazie prego c'è un'altra domanda direi l'ultima vado io Serena sei tu allora rapporto tra biohacking e privacy questa è molto interessante nel senso che una volta raccolti i dati vanno in un'app quindi i nostri dati biologici vengono condivisi con un pubblico oppure utilizzati in vari modi stai riflettendo intorno a questa tematica se si come qual è il limite tra privacy e tabù una domanda molto interessante purtroppo anche lì mi manca tanto da poter analizzare sono molto sincera cioè ultimamente soprattutto con tutti i viaggi che lo start price mi ha richiesto sono molto indietro cosa che mi dispiace poterci lavorare perché so quanto voglio che questo progetto arma piano piano diventi realtà però è uno dei temi sul quale sappiamo che dobbiamo lavorarci perché naturalmente vabbè io non so la tipa che penso del guadagnarci dei dati perché il mio problema io ho voluto lavorare su Alma perché proprio leggendo i paper scientifici non c'erano dati quindi all'inizio proprio si era pensato neanche di creare l'app ma solo di creare un sensore che desse dei dati per gli scienziati per continuare le ricerche poi naturalmente è logico che se raccogli dei dati li vuoi dare anche all'utente stesso per capire che cosa sta succedendo però sì il tema della privacy dovrà essere dovrà essere lì e magari dovrò farci tanto non lo so devo studiarci devo essere sincera però al tempo stesso non però al tempo stesso non c'è anche lì purtroppo se si vuole andare avanti con delle nuove scoperte delle nuove tecnologie nuove innovazioni bisogna raccogliere dati e comunque bisogna saperne di più cosa succede alle persone e comunque analizzare i fluidi vaginali non succede non è ancora successo comunque puoi fare lo smear test ma rimane tra te la tua ginecologa e magari il laboratorio che te lo analizza quindi è proprio cercare di raccogliere questi dati non solo per continuare la ricerca ma più che altro per accrescere un'educazione che manca e che si spera un giorno diventi più accessibile a tutti e più normale soprattutto perché sembra quasi impossibile per me è assurdo che in tutte le cose noi donne soprattutto che affrontiamo durante la vita un ciclo stesso da giovanissime o delle infezioni vaginali appena si hanno dei rapporti o meno pausa cioè ogni volta si viene incontro a questi problemi solo quando ce ne siamo dentro solo quando ci succedono perché manca proprio un'educazione dal punto di vista scolastico familiare che non è cattivare magari i nostri genitori ma è la società stessa quindi quello che vorrei fare è cercare di cambiare magari più una mentalità piuttosto che imporre benissimo direi grazie grazie ancora Giulia del tuo intervento e anche ai partecipanti di essere stati attivi e interessati perché li vedo con sguardi ancora vivi adesso volevo condividere vi ho condiviso nella chat il link al form con le tre domandine che vi ho fatto che vi ho fatto vedere prima e che vi che vi rimostro un attimo e e poi vi saluto dandovi appuntamento al prossimo webinar che potrebbe interessare sia voi che qualcun altro nelle vostre vicinanze noi abbiamo invitato a parlare con noi l'associazione Soprasotto che ha appena pubblicato in nostra collaborazione con WeMake un manuale per la creazione di un asilo autogestito un nido pirata nel quartiere quindi quel il 28 di maggio da 17.30 a 18.30 li avremo ospiti per domande anche da tutta Italia per chi è interessato a capire come si costruisce uno spazio per la cura collettiva di bambine e bambine in età da nido autogestito sempre di più ci sono nel nido quindi quando i bambini hanno da 0 a 3 anni non c'è uno spazio non tutti trovano spazio nei nidi pubblici perché chi ha un contratto precario o è freelance e quindi non ha un contratto stabile non può dimostrare di avere un lavoro e quindi nelle graduatorie crolla e quindi non riesce ad avere il posto e quindi sempre di più si stanno creando queste situazioni di autogestione e c'è un progetto che da 5 anni a Milano sta lavorando in questa direzione e ha deciso di condividere le proprie pratiche quindi vi ringrazio vi auguro una buona serata e buon 25 aprile ciao a tutti ciao grazie grazie